Prima e crepe nel progetto di reindustrializzazione del retroporto a Gioia Tauro. Pare che la fabbrica americana che dovrebbe sorgere sulle ceneri dei capannoni dell'ex Isotta Fraschini subirà uno slittamento. Partirà nell'anno 2017. Notizia che ha allarmato il sindaco di Gioia, Peppe Pedà, sollecitandolo a prendere carta e penna e scrivere al ministro dello sviluppo economico Federica Guidi per chiedere la convocazione immediata ad un tavolo di monitoraggio. Precisamente un incontro di controllo dell'insediamento produttivo LCV Capital Management alla presenza dei presidenti della Puglia, Michele Emiliano, della Calabria, Mario Liverio, dei sindaci di Bari, Antonio De Caro, di Modugno, Nicola Magrone e delle organizzazioni sindacali. Come è comprensibile la notizia del rallentamento nell'iter procedurale del progetto industriale nell'area di Gioia Tauro ha immediatamente destato grave preoccupazione tra la popolazione della Piana che vive in un territorio gravato di una percentuale altissima di disoccupazione. Asserisce l'amministratore di Palazzo Sant'Ippolito e aggiunge che tutti i cittadini guardano a questo nuovo progetto di insediamento industriale come ad una possibilità concreta di occupazione e rilancio socio-economico. Non solo, alla luce delle superiori premesse, Pedà ritiene doveroso, nella sua qualità di sindaco, farsi portavoce delle inquietitudini della cittadinanza e al tempo stesso domandare notizie certe circostanze sull'evoluzione attuativa del progetto in questione, appositi incontri trimestrali da svolgersi con la partecipazione dell'autorità preposte e degli addetti ai lavori come indicato nel verbale dell'adunanza dell'1 luglio del 2015. Il primo cittadino di Gioia Tauro si è augurato che il ministro condivida le sue motivazioni e ritenga di disporre negli uffici competenti del suo di Castero l'avvio con l'urgenza che il caso richiede dell'iter finalizzato alla convocazione di un apposito tavolo di riunione, onde possano essere adeguatamente discusse le diverse problematiche inerenti la vicenda. Il sindaco di Gioia Tauro non perde di vista il vero obiettivo di questo nuovo investimento produttivo, cioè la possibilità di nuove assunzioni. Infatti con la fabbrica di auto a Gioia Tauro si prevedono almeno 800 nuovi posti di lavoro. Il sindaco aveva lanciato la sua battaglia per la salvaguardia dei livelli occupazionali, dopo che a ottobre è stato sottoscritto a Roma l'intesa tra il ministro dell'economia e la regione per la realizzazione dell'impianto. Grazie a tutti.